Ciao ragazze, ciao ragazze e benvenuti in questo nuovo video! Finalmente il video sui miei prodotti preferiti che sto usando in questo periodo per capelli e praticamente sono tutti i prodotti che ho inserito ovviamente nel mio shop www.caritashop.com e che quindi potete acquistare vi lascio i link nel box informazione sono prodotti che io vi straconsiglio soprattutto se avete capelli ricci e mossi sono naturali e biologici e vanno bene sia per capelli secchi che grassi perché comunque sono molto leggeri e non ingrassano i capelli, cosa importante allora prima di tutto io proprio prima ho fatto lo shampoo ogni volta che uso questi prodotti praticamente i capelli mi vengono oltre che si modellano i ricci, perché a me non sono proprio così ricci se non metto questi prodotti diventano un po' più ricci e sono morbidissimi perché a me sono un po' secchi sono morbidissimi, vengono troppo belli come shampoo stavolta ho utilizzato lo shampoo lucidante io praticamente li ho entrambi e li adoro entrambi c'è quello volumizzante e quello lucidante della linea Care che è appunto una novità di Alchemilla e che io ho voluto assolutamente inserire nel mio shop online perché voi sapete che nel mio sito io metto solo i miei prodotti preferiti e questi qua dopo che li avevo provati in anteprima assoluta mi erano piaciute tantissimo quindi assolutamente li ho voluti a tutti i costi sono buonissimi, ma poi sono super professionale guardate questo pack, vi arriva nella scatola però guardate il prodotto com'è bello da tenere nella vasca è super elegante, sembra un prodotto da parrucchiere dimenticatevi tutti gli shampoo che è il bio che magari vi ricordate anni fa no? che non facevano schiuma eccetera questi qua hanno fatto passi da gigante cioè delle formulazioni ovviamente mantenendo sempre la formazione biologica e naturale senza silicone, senza paraffina però sono super performanti cioè la cosa bella è che fanno una schiuma morbidissima sembra di utilizzare un posto di shampoo insomma non bio che fa una bella schiuma però sono molto idratanti e poi la chicca profumano di cocco no vabbè poi altri shampoo che mi piacciono tantissimo altri shampoo e bassamo vi ho fatto vedere questo qua ma spesso uso anche questi perché anche questi qua profumano di cocco e questi sono Dr. Organic e anche questi sono presenti sul mio shop ovviamente perché anche questi li adoro questi ve li straconsiglio soprattutto se avete capelli ricci e mossi e secchi sono nutrienti sono profumati al cocco dato che la linea Care di Alchemilla profuma al cocco allora vi consiglio che se magari non prendete quello shampoo là potete anche prendere questo shampoo qua sul mio shop e comunque anche questo è al cocco quindi lo abbinate bene a tutta la linea al cocco Care di Alchemilla sono veramente buoni io vi devo dire la verità li sto alternando quindi a volte uso questi qua come shampoo a volte questo qua e mi trovo benissimo poi come balsamo metto questo che è di Coconut Oil Conditioning appunto sempre di Dr. Organic che lo trovate sempre nella sezione shampoo e balsami capelli del Carita Shop e metto anche la maschera guardate qua questa maschera come si è rovinata è praticamente finita ce n'è pochissima dentro perché l'ho usata madonna ragazzi è fenomenale questa è la maschera panna e fragola di Alchemilla e sul mio shop potete trovare sia questa che quella alla lucidante al mirtillo praticamente sono entrambe buonissime spesso mi chiedete quando state per fare acquisti quale prendo uno o l'altro allora ragazzi sono entrambe ottime io le ho usate entrambe le uso entrambe quindi andate tranquille l'unica differenza che ho potuto notare è che questa è a panna e fragola profuma di fragola oh vabbè è quella di mirtillo no vabbè no scherzo però questa qua è un po' più ristrutturante e nutriente quindi se avete i capelli proprio danneggiati sfibrati opati per ristruttura proprio per capelli secchi e crespi quella lucidante che poi è viola al mirtillo comunque ugualmente buonissima però è un po' più leggera cioè praticamente non appesantisce i capelli li mantiene voluminosi e li lucida tantissimo però sono entrambe ottime e io che faccio praticamente uso come shampoo che ho detto uno di questi tre praticamente o il volumizzante o il lucidante o questo al cocco e poi metto sempre il balsamo e invece a volte attendo con la maschera cioè ho notato che usando non sempre la maschera i capelli mi vengono più belli perché se uso a ogni shampoo la maschera si appesantiscono soprattutto se le avete ricci quindi io uso una volta il balsamo e lo shampoo dopo la maschera in questo modo mi si mantengono nutriti però non si appartiscono e si mantengono ricci quello è il senso ti riesco a fare questi capelli ricci senza utilizzare ferro o piastro che voi spesso me lo chiedete capelli ricci senza calore ragazzi in particolare però con quale prodotto questo qua che voi intantemi eccolo qua viene sempre nella scatola con la confezione così che è troppo figa cioè io questa la vedo proprio in un salone da parrucchiere bio perché è bellissima questa è la prima spuma per capelli al mondo biologica e naturale senza silicone ed è buonissima cioè diventa una vera e propria schiuma che contiene anche stratti ad esempio di vari di avena di mandorle dolci vari stratti naturali che nutrono il capello e io mi trovo benissimo con questa perché con la spuma vengono benissimo i capelli ricci però quelle da supermercato li seccano perché comunque non sono naturali queste biologiche le nutri anche io le adoro ve la faccio anche vedere vi faccio vedere io come faccio allora se voi avete capelli che non sono secchi utilizzate solo quelle a stare a posto io ho un po' il capello secco faccio un altro piccolo trucchetto metto un po' di questa e un po' di olio di cocco questo qua è un altro prodotto top che vi consiglio per capelli ricci ma anche non ricci per tutti i tipi di capelli l'olio di cocco è fenomenale per i capelli lo potete utilizzare sia come impacco pre shampoo sia utilizzarlo appunto come styling dopo quando lo asciugate e questo che viene in questa confezione guardate com'è bello profuma di monoico cocco monoico è buonissimo e ovviamente anche questo lo trovate sul carretashop e ovviamente non potevo non inserirlo nel mio sito online perché veramente è fenomenale lo utilizzo anche sul corpo dappertutto ha un profumo paradisiaco e questo è quello di dottor organic al cocco e vi dicevo poiché questo qua c'è nella confezione di vetro barattolo adesso che comunque fa un po' freddo io praticamente che ho fatto l'ho messo semplicemente una volta a bagnomaria sono furba una volta a bagnomaria e quello diventa tutto liquido perché praticamente l'olio di cocco sapete che si solidifica quando fa freddo e non un processo naturale e poi l'ho messo in questo barattolino potete utilizzare questo sbarattolino così lo uso come se fosse un burro quindi ne prelevo una piccolissima parte di questo burro di cocco olio di cocco monoi e lo metto nella mano assieme a uno zik di spuma vi faccio vedere com'è bella questa spuma è troppo bella è spumosa e poi la cosa bella che profuma di cocco quindi voi se ci aggiungete due gocce di olio di cocco praticamente mi empatizza il profumo di cocco no vabbè ragazzi cocco ovunque vi sto consigliando una super routine bellissima perché profumano preferano tantissimo di cocco vostri capelli no vabbè vedete come si modellano i ricci erano già più musci così si modellano tantissimo poi un altro prodotto che vi consiglio tanto lo spray volumizzante spray extra volume questo è uno spray troppo bello che se avete capelli ricci non potete non utilizzarlo perché questo a parte che contiene anche semi di lino e tanti ingredienti che chiudono le punte dei capelli che fanno apparire più lucidi e più sani ma poi è un finish che dovete dare per fissare i vostri ricci e per dargli volume no perché molto spesso il riccio soprattutto dopo un giorno che li avete lavati si affloscia un po' questo lo potete utilizzare anche nei giorni a venire che abbiamo fatto lo shampoo per ravvivare la piega allora faccio così a tempo domani mi sveglio ho tutti i capelli flosci così qua lo spruzzo e faccio così ovviamente però va bene anche per i capelli lisci questo è semplicemente uno spray è troppo bello ragazzi io lo adoro e posso fatto che il profumano di cocco mi piace tantissimo e poi ragazzi la lacca è troppo bello cioè la schiuma e la lacca non esisteva non biologica è naturale è troppo bella sta cosa profuma cocco è naturale scordatevi le lacche quelle comuni non bio che contengono siliconi che induriscono i capelli fanno anche cadere i capelli fanno proprio schifo ragazze questa è bellissima questa lacca praticamente serve per fissare il capello fissare i ricci però non le induriscono ed è molto molto bella e la potete utilizzare ovviamente anche sui capelli lisci perché comunque serve solo per fissare la piega e anche io la uso tantissimo quando leggo i capelli oppure faccio una treccia li fisso e così mantengo un po' il capello anche più fermo quindi contro l'effetto crespo nuvoletta questa mi piace tantissimo e poi profuma poiché è una lacca molto leggera io la uso anche per profumare i capelli perché mi piace tantissimo profumare i capelli la spruzzo ogni giorno e li profumo di cocco e poi ragazzi infine ultimissimo prodottino ma voi avete capito tutto al cocco tutto naturale tutto bio questo qua è i cristalli liquidi naturali biologici io sono pazzita quando ho visto questo e ho detto vabbè a che milla hai fatto la spuma hai fatto la lacca senza silicone naturale biologica pure i cristalli liquidi che voi sapete comuni cristalli liquidi in commercio fanno schifo perché praticamente dicono cristalli e semi di lino non contengono né semi di lino né cristalle né nessun olio contengono solo i siliconi che seccano e danneggiano i capelli questi sono naturali e sono fatti con tanti olietti tanti estratti sono proprio carini e veramente contengono infatti nel linci contengono estratte di linum usatissimo quindi veramente contengono i semi di lino la prima volta nella vita che trovi questi qua quei semi di lino e la cosa bella è che non sono come i cromoni cristalli liquidi che praticamente sono solo olio questa è una cremina vi faccio vedere perché è troppo carina guardate veramente bella cioè più che uno non immaginatevi come un cristalli liquidi immaginatevi una crema idratante per capelli una crema per lo styling per i vostri capelli io la adoro perché praticamente non unge i capelli potete utilizzarli sia quando li lavate e quando sono bagnati prima di asciugarli sia quando sono asciutti e sia ogni giorno se vedete che si seccano le punte se vedete che sono un po' sfibrati poi non dimenticate che questi prodotti oltre ad essere buoni al momento sono buoni anche a lungo termine perché se usate sempre questi prodotti che contengono tanti estratti tanti oli naturali i vostri capelli nel tempo saranno sempre più belli perché se applicate questo prodotto che ha il potere che promette di togliere l'effetto crespo il cristallo li toglie l'effetto crespo li fa lucidi e belli ma li state anche nutriendo e curando perché contiene tanti estratti o letti che nutrono fanno bene i capelli quindi vi cresceranno più belli i capelli più voluminosi più lucidi più lunghi quindi questa è la cosa bella di questi prodotti naturali e i cristalli liquidi li trovate in vari colori anche sul mio shop trovate sia per capelli biondi per capelli mori per capelli castani varie tipologie di colore non colorano i capelli semplicemente c'è un pigmento ad esempio qua dorato che quindi vi ravvive il biondo per quello nero che vi ravvive il nero se io mettessi adesso quello per capelli neri non è che mi diventano neri quindi potreste anche utilizzare un altro se non è proprio del vostro colore non succede nulla e quindi la cosa bella è che potete trovare tutti questi prodotti in un unico sito quale? in carita shop ma ragazzi che cosa favolosa perché prima dovete andare a prendere un prodotto ad una parte un prodotto ad un altro invece adesso trovate tutto su carita shop e se prendete ovviamente più di un prodotto non pagate neanche le spese di spedizione quindi vi lascio il link che è www.caritashop.com e ve lo metto anche nel box info aspetto i vostri commenti se avete provato i prodotti se vi comprate fatemi sapere voi cosa ne pensate fatemi sapere idee sui prossimi video sono qua per voi ragazze vi mando un bacio grande me l'avete richiesto in tantissimi questo video spero tanto che vi piaccia ciao lasciate un like al video se vi piacciono le mie recensioni supportatevi così ne faccio tante tante altre ancora ciao ciao mami io mi sento tuyo io se che tu te sientes mia dile al novioci tuyo che l'es una porcheria te caliento ma 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 te caliento ma 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 mi mi